Ecco il quarto e quinto gol del Casatori Sarno in azione, il lancio per Pignataro ed è il quarto gol. Casatori Sarno 4, Cava 2000, 0. Vedete Pignataro l'esultanza ed ecco il quinto gol. Dalla bandierina il cross al centro dell'area di rigore per Caldieri, colpo di testa, occasione colossale per Pignataro che la sfrutta.